Per l'amministrazione di Mazzara del Valla abbiamo il Presidente del Consiglio Comunale, Vito Cangidano. Allora, oggi è un momento importante perché ricordiamo un'alta figura come magistrato, come uomo di fede. Sì, innanzitutto volevo ringraziare io l'Avvocato Morello che ha voluto fortemente organizzare questo convegno. La figura del giudice Levatino è una figura che ci deve far seguire il suo ruolo, quello che ha fatto lui. Noi come amministrazione abbiamo sposato subito questo convegno, quindi abbiamo patrocinato questo evento. Il Comune di Mazzara del Vallo ha il piacere di condividere con la città l'inaugurazione della fontana per Piazza Mocarta di Pietro Consagra in occasione del suo recente restauro. L'11 dicembre, alle ore 16, presso la ex chiesa di San Carlo Borromeo, un convegno racconterà il restauro curato dalle ditte sponsor Kira Ema e Marino. Alle ore 17.30, in Piazza Mocarta, l'installazione audiovisiva di Antonio D'Addio e la performance teatrale di Massimo Vinti accompagneranno l'inaugurazione dell'opera alla presenza delle massime autorità cittadine. Vi aspettiamo!